Buongiorno, benvenuti a questa video analisi del 17 novembre 2015 dedicata a questi 28 cross inseriti nel mercato del forex. Qui in primo piano il grafico giornaliero candele giapponesi, quelle classiche. Qui a destra grafici e kinashi che ci aiutano soprattutto nell'individuare quello che è il trend in corso e eventuali anche possibili punti di inversione su base giornaliera, settimanale e mensile. Questa video analisi è possibile riceverla gratuitamente via email oppure tramite l'applicazione gratuita Telegram che è molto simile a Whatsapp in cui attraverso la quale potete ricevere quindi queste video analisi e tutti gli aggiornamenti, violazioni di supporti, resistenze, candele, kinashi, verde, rosse, tutto quello che riguarda anche i grafici relativi a queste video analisi, tutto gratuitamente. Dovete cliccare se passate con il mouse sopra il video o avete visto anche il messaggio iniziale. Qui in alto a destra c'è la I, basta cliccare su questa I e apparirà un link che riporta al mio sito interno dove trovate tutte le informazioni per ricevere gratuitamente via email e tramite Telegram. Bene, lunedì il giorno dopo la prima seduta, praticamente dopo gli eventi tragici di venerdì scorso a Parigi ha visto un sì calo dell'euro ma ha contenuto il weekend sicuramente attutito il colpo di quello che potrebbe essere sicuramente una storia diversa se gli attentati fossero accaduti a mercati aperti. L'euro comunque va a violare il supporto in area 10737 quindi adesso per la nostra moneta si apre uno scenario ulteriormente al ribasso ma d'altronde è così da quando la politica monetaria della BCE con tutto quello che è stato e tuttora si parla anche di un eventuale potenziamento a partire da dicembre quindi potrebbe ancora venire più giù la nostra moneta anche per effetto della politica monetaria della Federal Reserve a dicembre se ci sarà un rialzo dei tassi, insomma tante situazioni che stanno portando sempre più giù la nostra moneta e ora come ora da quello che vedo in questo momento, mentre sto registrando questa video analisi il prossimo target potrebbe essere 1.05, supporto che ha funzionato egregiamente vedete qui a marzo sempre di questo anno però non è detto che possa reggere all'urto nuovamente, solo con una candela verde sul grafico questo qui Aikinashi giornaliero potremo eventualmente prendere uno spunto al rialzo e sono saltati altri supporti dell'euro non solo contro il dollaro americano, anche euro contro sterlina è stato violato il livello 0.70,60, prossimo supporto da monitorare 0.69,50 circa zona di supporto anche qui in questo caso solo con una candela verde Aikinashi euro yen idem, c'è stato un tentativo di recupero in chiusura però alla fine violato il supporto 132 e attenzione perché sull'euro yen guardate quanta strada potrà fare, non dico che lo farà in pochi giorni però come ad aprile c'è stato questo rialzo, adesso ci si può anche attendere la stessa storia però al contrario probabilmente al ribasso, sempre che da qui a qui a 127 non appariranno delle candele verdi Aikinashi ma comunque andremo a vedere visto che questa videoanalisi è giornaliera e daily quotidiana neozelandese tra i cambi contro dollaro, anzi prima del neozelandese faccio vedere il dollaro contro franco svizzero ovvero i cross contro cui è correlato negativamente l'euro dollaro, ovvero sale uno e scende l'altro ed è il primo, è il dollaro contro franco svizzero che ieri ha buttato giù la resistenza 1.0056 e adesso si aprono degli scenari interessanti, 1.02 che guardate che cosa va ad unire la data che vedete in basso in giallo 15 gennaio 2015, la famosissima data quel giorno in cui sapete benissimo cosa è il terremoto che è successo sui cambi contro franco svizzero e si sta dirigendo proprio lì, quindi guardate tutto quello che era stato il crollo successivo a quella notizia il cambio minimo 1.20 che è stato tolto dalla banca centrale svizzera, ci stiamo a distanza di mesi quasi un anno oramai, neanche diciamo da gennaio ancora manca un po' per un anno ci stiamo riportando proprio lì, stiamo tornando proprio al gennaio, i livelli di inizio anno poi un altro cambio con cui è correlato negativamente o inversamente come preferite l'euro dollaro e il dollaro yen che ha violato la resistenza in area 123.15, si punta ai massimi adesso del 2015 questo livello in area 125.50 però non c'è un'accelerazione forte, insomma non sembra molto deciso questa azione per quanto riguarda il dollaro yen altro cambio importante contro dollaro che ha visto violare un livello grafico importante al supporto e il neozelandese contro dollaro ha violato l'area 0.65.20 e adesso si va giù e potrebbe testare il supporto 0.62.60 circa NZD CAD, un altro NZD, quindi violato il supporto 0.86.69, aria, sempre parliamo di aria e supporti e ora come ora potrebbe scendere anche fino a 0.83, sempre che non accada qualcosa ovviamente prima livelli, aggiornamenti violati rispetto all'analisi di ieri, c'è da segnalare la sterlina yen violata la resistenza in area 187 e anche qui guardate quanta strada potrebbe fare al rialzo sempre che da questo livello 187 fino a 196, 1000 pips, wow, attenzione sempre che non si formeranno delle candele rosse Aikinashi comunque staremo a monitorare tutti i giorni questa situazione faccio una carrellata veloce adesso dei cross, potete mettere in pausa il video per prendere nota dei livelli, spesso vedete sono scritti qui, i livelli zone di supporto e resistenza l'australiano contro il canadese, l'australiano contro il franco svizzero contro lo yen contro il neozelandese, l'australiano contro il dollaro che pian pianino sta ritornando su questo supporto che più volte ha più ripreso, ho detto non mi convinceva, troppo canadese contro franco svizzero tenta il superamento della resistenza 0,75,86 canadese contro yen e poi franco svizzero contro yen che sta combattendo su questo supporto 121,62, l'euro li abbiamo visti un po' tutti, questo è l'euro contro l'australiano prosegue la debolezza, euro canadese vacilla oramai in bilico, supporto 1,42,43 l'euro contro franco svizzero, a differenza del dollaro franco svizzero non ha recuperato 1,20 euro sterlina abbiamo già visto a rotto il supporto così come anche euro yen euro neozelandese ancora a distanza di sicurezza da una possibile violazione, euro dollaro ha già violato, sterlina dollaro, sterlina contro l'australiano scusate questo è il grafico sterlina contro il canadese, contro il franco svizzero, contro lo yen rotta la resistenza contro il neozelandese, contro il dollaro, resta in una fase di rimbalzo dal supporto 1,50 NZD CAD abbiamo già visto che ha rotto il supporto, NZDCHF invece viene da questa correzione dalla resistenza, così come anche NZD contro yen, contro il dollaro, abbiamo già visto ha rotto il supporto, USDCAD continua il rialzo che sta seguendo di pari passo il ribasso invece del petrolio, il dollaro franco svizzero e il dollaro yen ne abbiamo già parlato. Bene, con questo è tutto, vi ringrazio per la cortese attenzione ed auguro a tutti voi una buona giornata. Grazie a tutti.